Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi voglio parlare con voi di trattamenti disumani e della condanna che ha appena ricevuto l'Italia per quanto riguarda appunto questi trattamenti disumani ad un ergastolano e questa condanna arriva dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sì, volevo parlare del processo di Herbert, della revisione che verrà trattata dai giudici di Brescia il primo di marzo, ma non lo farò adesso, ma rimanete connessi su questo canale perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane uscirà un approfondimento molto lungo sul tema perché voglio portarvi un qualcosa che abbia senso vedere, che non vi riporti veramente cose che avete già sentito in altri video o comunque dal telegiornale o da tutte le cose che si sanno sul tema. Torniamo a noi. I giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia per trattamenti disumani, quindi l'Italia ha violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. Questo trattamento disumano è avvenuto nei confronti dell'ergastolano Antonio Libri, che è attualmente detenuto presso il carcere di Parma ed è affetto da gravi problemi di salute, tra cui osteoporosi grave con collassi vertebrali, multipli e fibromialgia. Capite bene che ha bisogno di cuore mediche. Questa diagnosi brevissima che vi sto dando io, che non ne capisco tantissimo del tema, può aiutarvi a capire quanto sia grave la sua situazione. Ma ripercorriamo i fatti. Antonio Libri è stato condannato ed è stato condannato anche per vari reati legati alla criminalità organizzata, per questo è detenuto in carcere, per la precisione del carcere di Parma e, come vi ho detto prima, soffre di vari problemi di salute ed è stato riconosciuto disabile al 100%, infatti ha una mobilità limitata degli arti inferiori. Ma non è sempre stato detenuto a Parma, infatti precedentemente era detenuto a Re Bibbia, dove nel lontano 2017 ha cominciato a lamentare i problemi di mobilità che l'hanno portato appunto a questa diagnosi anche di invalidità del 100%. Infatti, per questi dolori di cui si lamentava, aveva avuto sostanzialmente fisioterapia e altri esami, un corsetto ortopedico. Nello stesso periodo ha presentato una richiesta di sostituzione della detenzione carceraria con quella domiciliare, che però non si sarebbe svolta a casa sua, ma sostanzialmente presso una struttura sanitaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, dopo questa richiesta, ha nominato un perito per valutare il suo stato di salute e sostanzialmente ha detto che poteva essere curato in prigione. Quindi il ricorrente aveva bisogno di fisioterapia, di esami, di cure, ma poteva tranquillamente farlo in carcere e per questo è stato trasferito nel carcere di Milano per avere una cura migliore. Se ben mi ricordate, anche Cospito è stato trasferito al carcere di Opera appunto perché lì poteva ricevere delle cure migliori rispetto a quelle che poteva ricevere ad altrove. Dopo questa relazione del perito nominato dal Tribunale, ovviamente il Tribunale ha respinto la sua richiesta di detenzione domiciliare e quindi l'ha trasferito sostanzialmente a Milano nell'ottobre del 2017. In seguito i medici, oltre alla fisioterapia, gli hanno assegnato un diabolatore e una sedia a rotelle. Nel gennaio del 2018 l'ortopedico ha però notato che la fisioterapia non veniva fatta e neanche gli esami venivano svolti come appunto era stato richiesto e come si sarebbe sperato succedesse e non gli era stato fornito né un deambulatore né un corsetto per la schiena, per i suoi problemi appunto che aveva la schiena. Nel marzo del 2018 ha cominciato però il primo ciclo di fisioterapia e secondo dei rapporti anche successivi non aveva ricevuto però il deambulatore e il corsetto. Gli esami prescritti quindi sono stati svolti con ritardo sono avvenuti nel maggio del 2018 e non all'inizio come ci si sarebbe auspicati accadesse e a quel punto Antonio Libri ha presentato un'altra richiesta di sostituzione della sua detenzione in prigione con quella domiciliare. Il 25 giugno del 2018 il magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto nuovamente la richiesta dicendo appunto che il detenuto avrebbe ricevuto un trattamento adeguato alle sue patologie in prigioni e che quindi non poteva scontare la sua pena all'interno di una struttura sanitaria. Ma Antonio Libri non ne morde e infatti in questo caso propone appello contro il rigetto della sua seconda richiesta di passare la sua pena successiva all'interno di una struttura sanitaria e il tribunale di Milano ha ordinato al servizio medico del carcere di effettuare ulteriori esami e di fornire al ricorrente appunto un corsetto per la schiena che era stato richiesto sostanzialmente a inizio 2017. Secondo i rapporti medici le condizioni erano stabili riceveva assistenza necessaria dal personale durante tutte le attività quotidiane e quindi non aveva bisogno di un corsetto perché era stato autorizzato un acquisto a sue spese quindi non doveva provvedere il carcere che aveva già provveduto alla sede a rotelle e alle stampelle. Successivamente per avere un trattamento sanitario migliore era stato disposto anche il trasferimento presso la sede di Parma del carcere rispetto a Milano e nel 2019 il tribunale di Milano ha ribadito l'ordine di fornire al detenuto un corsetto per la schiena a sue spese che doveva continuare a fare fisioterapia e successivamente è stato trasferito nel carcere di Parma dove è stato collocato nella sezione di assistenza intensiva la cosiddetta SAI. A Parma Libri riceve molta assistenza quindi gli vengono insegnati degli esercizi che può fare autonomamente però successivamente emerge che ha bisogno di una riabilitazione intensiva di un percorso intensivo e questo percorso non poteva essere assolutamente svolto all'interno del carcere ma necessariamente all'esterno e quindi il tribunale di Milano ha nominato un perito per esaminare lo stato di salute dei libri e determinare il miglior percorso di trattamento. I libri aveva una cella priva di barriere architettoniche come invece era all'inizio perché è stato trasferito da una cella all'altra durante il suo percorso a Parma e i rapporti del carcere però questa perizia però ha segnalato che aveva bisogno effettivamente di un trattamento regolare di riabilitazione che c'erano dei ritardi nel trattamento e nella somministrazione da parte del carcere. I rapporti del carcere hanno quindi evidenziato la necessità di un bus e di esercizi di rinforzo e quindi tra giugno e settembre 2020 sostanzialmente la salute del detenuto è stata ritenuta incompatibile con la detenzione. Nonostante i rapporti del carcere avessero sottolineato il bisogno dei libri di cure aggiuntive e quindi di esercizi di rinforzo per la sua situazione il tribunale di Milano nel settembre del 2020 ha ritenuto che la salute del condannato era compatibile con la detenzione aveva respinto la sua ennesima richiesta di passare delle cure domiciliari in una struttura sanitaria però ha notato sostanzialmente che l'assenza di fisioterapia regolare attribuita all'attesa delle strutture che era eccessivamente lunga avesse peggiorato sostanzialmente un pochino le condizioni di salute dei libri e quindi aveva insistito in quella ordinanza il tribunale che l'amministrazione carceraria dovesse garantire della fisioterapia regolare e l'attrezzatura ortopedica necessaria. L'appello dell'Ergasolano contro questa ennesima richiesta sulla detenzione domiciliare e l'istruzione sanitaria è stata respinta nuovamente è stata respinta dalla Cassazione nel 28 maggio del 2021 successivamente ha avuto una visita ortopedica presso l'ospedale di Bologna che ha indicato la necessità di passeggiate quotidiane di stretching di un bus ortopedico. Tutte le richieste sembrerebbero essere state soddisfatte dal carcere infatti aveva un materasso ortopedico delle stampele le sue condizioni erano stabili nonostante la lista d'attesa per nuovi cicli di fisioterapia fosse eccessivamente lunga. Un rapporto successivo del 30 agosto del 21 affermava che l'eternus non aveva bisogno di fisioterapia costante e libri però aveva presentato altre due richieste di sostituzione della sua detenzione con l'arresto domiciliare e entrambe sono state rifiutate dal tribunale di sorveglianza di Milano sulla base del fatto che riceveva le cure necessarie e non c'era un rischio di aggravamento dello suo stato di salute. Ma la corte di Strasburgo dopo tutte queste prove sostanzialmente ha sostegno del fatto che lui poteva stare in carcere perché ha deciso di condannare l'Italia per trattamenti disumani e degradanti. La corte ha ritenuto l'incompatibilità dello stato di salute di Antonio con la detenzione nonostante tutti i periti e tutti gli esperti designati avessero sostanzialmente affermato il contrario. Infatti erano tutti concordi nel dire che le sue condizioni di salute combaciavano, potevano combaciare con la detenzione carceraria. Però c'era comunque prevista la possibilità di accesso temporanea a strutture esterne per il trattamento. Ma la decisione della corte si è fondata principalmente sul fatto che i cicli di fisioterapia erano irregolari e limitati. Infatti è stato proprio questo che ha portato ad un peggioramento ulteriore delle condizioni di Antonio Libri. Infatti non c'era prova che il detenuto avesse mai beneficiato di un trattamento di riabilitazione intensiva e nonostante la sua disponibilità a ricoprire i costi delle cose che potevano essergli utili, come ad esempio il busto di cui parlavamo all'inizio, non gli era stato fornito alcun busto ortopedico. La base di queste constatazioni l'accelo ha concluso che Antonio Libri non ha ricevuto cure adeguate in prigioni e per questo c'è stata appunto una violazione dell'articolo 3 della convenzione che vieta trattamenti umani o degradanti. Perché ricordiamo che comunque Antonio nonostante fosse stato deciso che poteva accedere a delle cure e nonostante lui si fosse comunque offerto di pagare ulteriori cure e anche il busto, tutto ciò non gli era stato appunto dato. Spero che questo video vi sia stato utile per aprire leggermente gli occhi sul mondo del carcere, che è un mondo molto molto particolare e su cui non basterebbero 10.000 video per trattare tutti gli argomenti e tutte le cose inerenti al carcere. Ci vediamo comunque la prossima settimana per un video approfondimento super sulla strage di erba.